Ritorno all'appuntamento con Tra le righe consigli di lettura. Siamo nella libreria Padre Pio a San Giovanni Rotondo, pochi metri dal convento di Padre Pio, dal santuario di Santa Maria delle Grazie. Partiamo, come d'abitudine, con un libro edizioni Padre Pio da Pietrelcina. Fra Camillo è il frate con la barba che conquistò Padre Pio, firmato da Giampaolo Colavita, pronipote di Fra Camillo. Leggiamo proprio il passaggio in cui si racconta l'incontro tra Francesco Forgione, il futuro Padre Pio, e Fra Camillo, che un giorno passò per Piana Romana, la contrada circa 4 km dal paese, dove si trova ancora oggi la masseria dei Forgione, e si fermò sull'aia per chiedere un po' di grano. Francesco, che ormai era giovinetto, era lì con mamma Peppa e restò fortemente attratto da quel frate semplice e umile, che emanava un carisma particolare, tanto che non sapeva staccarsi dalla sua figura, avvertendo una forte emozione. Cominciò così a serbare nel segreto del suo cuore la decisione di farsi frate, un frate con la barba, proprio come Fra Camillo. Se ne cominciò a parlare in famiglia e quando Fra Camillo visitava la masseria dei Forgione, mamma Peppa gli diceva Fra Camillo a Francesco lo dobbiamo fare monachello, e Fra Camillo contento esortava la mamma e incoraggiava Francesco a perseverare nel suo proposito. Egli non poteva immaginare quale grande progetto di santità il Signore serbava per quel giovinetto, ma certamente si sentiva umile strumento nelle mani di Dio. Quando Francesco ebbe 15 anni e arrivò il momento di entrare in convento, lo zio Pellegrino fece scrivere al provinciale dei Cappuccini a Foggia, padre Pio da Benevento, il quale rispose che il noviziato di Morcone era pieno e c'era da aspettare un poco. Allora lo zio Pellegrino, il quale avrebbe preferito che il nipote scegliesse un altro ordine religioso, disse Senti, Fran G, il noviziato di Morcone è pieno e bisogna aspettare. Vuoi andare a Montevergine? Quelli vestono bianco, portano il cappello e le scarpe, stanno molto bene. E Francesco rispose, no, non portano la barba. E di nuovo lo zio Pellegrino, vogliamo far scrivere a Sant'Angelo a cupolo? Lavi sono i figli di Sant'Alfonso, vestono quasi come preti e stanno bene. E Francesco di rimando, ma portano la barba? E lo zio Pellegrino, e no, la barba non la portano. E allora non ci voglia andare. Vedi, Fran G, nipote mio, io ne so più di te. A Benevento ci sono i francescani e sono tutti belli ciotti ciotti e non come quelli di Morcone che sembrano tanti tisici. E Francesco, ma portano la barba? Zio Pellegrino spazientito e con tono alterato. All'anima della barba, ma che ti devi mangiare la barba? Tu devi pensare a stare bene, hai capito? Francesco, per nulla intimorito e risoluto, disse no, voglio andare dei monaci con la barba, come Fra Camillo. La barba di Fra Camillo si era ficcata nella mia testa, raccontava lo stesso Padre Pio, e nessuno mi poteva smontare. Dopo un paio di mesi arriva la chiamata, fissando anche la partenza, e così l'arciprete preparò le carte necessarie. Questa storia Padre Pio la raccontava sempre. E negli ultimi anni della sua vita anche a mio zio Padre Camillo con la vita, pro-nipote di Fra Camillo, di cui ha rinnovato il nome allorquando si è fatto frate. Guaglio, io mi sono fatto monaco per la barba di tuo zio, li diceva sempre Padre Pio. Bellissimo questo passaggio di questo libro, che davvero vi consiglio di cuore. Edizioni Padre Pio da Pietrelcina, la storia di Fra Camillo e il frate con la barba che conquistò Padre Pio, firmato da Giampaolo con la vita. Fratello Michael Davide, per edizioni deoniane di Bologna, firma questo agile libretto intitolato Pregare a tavola. Perché da soli o insieme è uno dei modi possibili per fare la differenza tra un semplice gesto per la sopravvivenza e un gesto che accoglie la vita per condividerla. È un libro che è diviso per giornate, c'è il tempo ordinario e il tempo di quaresima. Nella presentazione Fra Michael scrive Ogni giorno ci sediamo a tavola e prendiamo insieme il cibo che ci serve per vivere. Ogni giorno il gesto del mangiare e del bere non solo ci permette di continuare a vivere, ma è pure l'occasione per approfondire quei legami che ci aiutano a vivere al meglio delle nostre possibilità umane. Noi umani non solo mangiamo come tutti gli altri esseri viventi, ma compiamo il gesto del mangiare e del bere in un contesto di scambio che fa la differenza. Pregare a tavola prima di mangiare da soli o insieme in realtà è uno dei modi possibili per fare la differenza. Tra un semplice gesto per la sopravvivenza appunto è un gesto che accoglie la vita per condividerla e così dilatarne il senso. Leggiamo, prendendo ad esempio il giorno di Pentecoste, c'è la benedizione e poi c'è il ringraziamento. Padre Santo, portiamo a termine questi giorni della Letizia Pasquale e ti benediciamo, perché lungo questo tempo non solo hai nutrito il nostro corpo, ma hai rinnovato per la nostra mente l'intelligenza del mistero di Cristo risorto, riempiendo i nostri cuori di una speranza che vogliamo condividere con tutti. Questi sono davvero un insieme di preghiere divise tra l'arno ordinario, la quaresima, il tempo di avvento e poi in occasione di un battesimo, quando si mangia anche da soli, per la prima comunione, per un progetto insieme, per l'onomastico, per la mamma e per il papà. Insomma, davvero un libretto da tenere, potremmo proprio dire, in cucina e da leggere insieme nel momento in cui ci si mette a tavola. Fratel Michael Davide, edizioni dioniane di Bologna, pregare a tavola. Lui è un uomo davvero straordinario, con una storia alle spalle, ma soprattutto una voglia di vivere e un entusiasmo contagiosi. Stiamo parlando di Mario Melazzini, che per la San Polo firma questo libro, Lo sguardo e la speranza. La vita è bella, non solo nei film. Mario Melazzini, classe 1958, nel 2003 gli viene diagnosticata la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, che lo obbliga ad affrontare un cammino davvero molto difficile, soprattutto verso l'accettazione dei propri limiti. Lui è medico, onco-ematologo, ha ricoperto vari incarichi anche in ambito sanitario e sociale. È stato assessore alle attività produttive anche della regione Lombardia, autore di diverse pubblicazioni scientifiche. Voglio leggervi un passaggio in cui, appunto, qui racconta la sua storia, racconta una forte testimonianza di quella che è la sua reale situazione oggi, e dedica questo libro alla sua famiglia, alla moglie, ai figli, miei ragioni e forza di vita. A proposito della dignità che sta nell'occhio del curante, molto bel titolo di questo capitolo. Prima della malattia, scrive Melazzini, identificavo la capacità di essere un buon medico con la risposta concreta che sarei stato in grado di offrire al paziente. Oggi mi rendo conto che è indispensabile ripensare il rapporto con il paziente, cercare di ascoltarlo più a fondo e supportarlo anche dal punto di vista emotivo. Identificare come bisogno prioritario il corretto percorso di presa in carico, dal momento della diagnosi alla terapia, a volte purtroppo alla progressione della malattia fino ai momenti finali. L'ascolto dell'altro, la capacità di accompagnare con la parola e lo sguardo la mia attività, mi permetteranno di dedicarmi ancora più intensamente alla cura dei malati, oppure di pianificare e organizzare il percorso di chi poi dovrà accompagnarli attivamente nella cura. Nasce per me una scelta strategica di professione, passare dal ruolo del medico attivo sul fronte materiale a quello di medico attivo concettualmente, attivo non necessariamente sul malato, ma per il malato e i suoi familiari. Parole davvero molto forti ed edificanti, quelle riportate in questo libro, edito dalla San Paolo per la collana Storie vere, firmato da Mario Melazzini, Lo sguardo e la speranza. La vita è bella, non solo nei film. Sempre per la San Paolo, Simone Bruno, psicologo, psicoterapeuta, firma questo libro dedicato alle nuove forme di affido, affiancare alle famiglie fragili. Vi leggo solo la presentazione in quarta di copertina. Si parte con tre domande. Come si aiutano le famiglie vulnerabili? I bambini vanno necessariamente separati dai loro genitori? Le comunità e l'istituto dell'affito sono le uniche vie per proteggere e cautelare lo sviluppo dei più piccoli? Il percorso tracciato in questo libro tenta di rispondere a queste domande, solcando i confini di una nuova frontiera in maniera di tutela minorile. Parte dall'affido familiare, di cui sottolinea i tratti essenziali e consolidati, le evoluzioni e gli aspetti di limite, per poi volgere lo sguardo verso nuove modalità di intervento che mirano a ridurre l'allontanamento dei figli dalla famiglia di appartenenza, sostenendo quest'ultima attraverso la valorizzazione delle sue risorse. La formula è originale. Una famiglia solidale si impegna concretamente a sostenere un'altra famiglia che per svariate ragioni vive disagi di tipo economico, psicologico e relazionale, tali da compromettere il rapporto con i figli. Questo è solo un piccolo spunto di riflessione. Ne troverete veramente tanti altri. Ci sono anche dei passaggi in cui si fa un po' la differenza con altri paesi europei, anche del mondo, appunto sempre per quanto riguarda la questione affido. Lo consiglio, ma sicuramente lo consiglio un po' agli addetti ai lavori, agli assistenti sociali e psicologi, coloro i quali vogliono, come dire, sapere qualcosa in più, conosce qualcosa in più di come andare verso nuove forme di affido, affiancare le famiglie fragili, edito dalla San Paolo a firma di Simone Bruno. E concludiamo con una storia, ma più che altro con una domanda. Dove va la barca del mondo? Con scialuppa di salvataggio, LDC, Pino Pellegrino, che abbiamo avuto modo di conoscere più volte, docenti di psicologia e pedagogia. Insomma, come dire, ci indica varie scialuppe di salvataggio. La quindicesima è l'importanza di salvare l'ottimismo, perché scrive Pellegrino, il tempo in cui viviamo è stato definito in molti modi, la società del disincanto, la società liquida, la società del pensiero debole. Queste definizioni, meno una che riteniamo fotografi al meglio questo nostro oggi, è l'epoca del pianisteo facile. Stiamo toccando il fondo del barile, ma che gioventù abbiamo, ma dove andremo a finire? Com'era bella la vita quando i mulini erano bianchi, la televisione non c'era, neppure il buco dell'ozono. Non è tempo di chiudere il rubinetto delle lagne, il tempo di dire basta ai pensieri vestiti di nero, il tempo di smetterla di usare la testa come portaspilli. Il pessimismo non porta da nessuna parte. La storia parla forte. Mai si è dato il caso di un pessimista che abbia fatto progredire l'umanità, sia pure di qualche breve passo. Ne era pienamente convinto lo scrittore francese, scese Leon Bloi. È impressionante leggere la sua invettiva. Non c'è niente al mondo che mi dia il voltastomaco come il pessimismo. Se avessi l'onore di comandare in tempo di guerra, farei fucilare i pessimisti, come si fa con le spie e i disertori. Siamo nell'esagerazione, è vero, ma non più di tanto. Il pessimismo è il virus più suddolo e pericoloso che abbiamo, perché tarpa le ali e perché è ammalato di tutto ciò che di negativo c'è nella vita. Quindi quello che consiglia Pino Pellegrino è salvare l'ottimismo, perché l'ottimismo dà una marcia in più, tiene a galla la voglia di vivere e migliora il mondo. Insomma, dice Pellegrino, non ci resta che abbracciare l'ottimismo. Non già perché ingenui, ma perché realisti. E allora basta avere gli occhi buoni per venire a sapere che non vi è cosa che non abbia qualche briciolo di fascino o un punto luminoso. Quindi, come dire, trovare il positivo in qualsiasi cosa, in qualsiasi situazione della vita. Bene, con questa segnalazione dove va la barca del mondo con la scialuppa di salvataggio. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Appuntamento tra le righe, come sempre, la prossima settimana. Grazie. 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 Grazie.